si comunque gli darei 9 mi piace sono tutto da usare salve gente buoni di questo video sono tex oggi siamo che in compagnia di Marketsu su... che cos'è questo? nuovo format sul canile o sul canale di Suez come preferite noi non abbiamo... meglio di Young Signorino raga meglio di Young Signorino assolutamente il titolo sarà questa roba è meglio di Young Signorino così facciamo noi io lo credo tanto si può applicare a tutto quel titolo perché tutto è meglio di quella roba vabbè e niente oggi andremo a fare cioè oggi andremo a votare le armi di Fortnite dal punto di vista estetico sei sicuro il nostro parere? di voler farle tutte 2, 4 ah non sono così tante zio si in effetti è vero 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10 mica dobbiamo darci mica sono uguali anche se cambia il colore sono 22 va bene ci sta non è tanto si dai allora bene cominciamo ora Nieris inizio io? si inizio io iniziamo dalla Soul Trifle quello nuovo che tra l'altro qua nelle immagini sembra diverso da come è in gioco però vabbè è diverso dobbiamo votarla per estetica quindi io gli darei ci sta come forma ci sta direi è difficile guardarlo bene così è un po' piccolo vabbè il colore fa schifo è tutto griscio brutto in culo io gli darei su 10 eh ah se su 10 valgono anche i mezzi tipo 6 e mezzo 7 e mezzo gli darei solo quelli gli darei 8 si bello è alto io ho invece dato che è abbastanza insignificante il colore è anche quello super insignificante do 6 si nemmeno 6 6 6 cattivo mi guardavo un SMG un po' tondo vai la R il tre colpi tre colpi è un po' random cioè c'è del legname è un po' sembra un po' fatto col culo un po' improvvisato esteticamente non è che mi piaccia troppo 6 ne do 6 ma allora per me è dato che è un fucile base comunque perché di certo non è non è l'arama più forte del gioco ci sta abbastanza e gli do comunque 7 non troppo alto perché non è questo granché comunque 7 non è nemmeno basso M4 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 è l'arma classica l'arma di Fortnite si l'arma di Fortnite con quel disegnino lì che non sono ancora riuscito a guardare bene sembra Babbo Natale sembra Babbo Natale come forma come forma abbastanza normale gli darei 7 si 7 perché è normale niente da dire troppo classico 7 come lui un po' lo scar lo scar e come armi vere è la mia arma preferita in assoluto è bellissimo quindi un po' meno nel gioco un po' meno nel gioco nel gioco non rende quindi nel gioco gli do 8 e mezzo allora il colore non mi piace troppo però ci può stare perché è un po' diverso dagli altri dato che è l'arma l'arma che tutti vogliono un po' diversa ci sta da 9 onesto l'M4 col mirino l'M4 col mirino non è quello ma vabbè perché non è proprio l'M4 però vabbè un assault rifle non spara manco come l'M4 è un assault rifle scopato come dice il sito scoped scoped mi direi va 6 mi fa abbastanza scopo schifo eh sì nemmeno a me piace tanto se fosse un po' meno tozzo 6 e mezzo onesto l'M4 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 ma ci sta abbastanza ci sta abbastanza il cavalletto è inutile perché lo tiene in mano completamente inutile però la rende più bilanciata sì la rende assolutamente più bilanciata nell'immagine del gioco il cavalletto è già un casino è morbido mi ricordo i tempi a cui mi ricordo i tempi in cui giocavo a COD che usavo sempre quella è OP su COD quella roba tipo one shotta è un bordello di colpi mi ricordo i tempi della mia infanzia quindi gli do sette e mezzo sì a me piace anche con la scatola no però 8 e mezzo facciamo 8 e mezzo dai siamo buoni la minigun la minigun in sé è un'arma bella ma su Fortnite mi fa schifo non so perché fa schifo non si fa schifo fa schifo sia da usare sia come estetica fa schifo è fatta malissima tipo su GTA la minigun è bella è tozza su Fortnite mi fa schifo 5 e invece devo dire che mi piace anche di estetica di da quell'idea di potenza che poi non ha quindi è tutta una trollata è una presa per il culo se 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 devo dire cose dette bene però il modo in cui si crea va avanti e poi è bella ci sta sta si tu e ci sta quindi io do 8 bene Heavy Shotgun Heavy Shotgun mi piace come estetica dà l'idea di potenza anche se non è potente cioè vabbè più della minigun quindi 192 di Hatchat non li ho mai visti neanche io 192.5 di Hatchat non l'ho mai visti mai sempre fatto 88 di Hatchat 86 massimo per me no a me una volta ha fatto 88 di scudo ti ricordi eh sì comunque come estetica mi piace 8 e mezzo col mirino è fatta bene beh io 8 va bene non ho molto da dire anche se il punto è in quella fine non so come si chiama sorry è troppo piccolo è il punto che va verso il basso dove la impugni è troppo piccolo impugnatura quello che è ok si è un po' sbilanciato però comunque c'è lo shot che andrà a tenere con due mani una là davanti bella tozza ci sia ok può anche essere utile però non mi piace il pump il pompa del nonno questo qua mi ricorda le campagne i nonni che arrivano i ladri tirano fuori quello one shot stanno tutti fortissimi da sotto il letto non si mettono manco la camicetta rimangono in bretelle si comunque come estetica abbastanza antica 7 si con legno comunque ci sta diciamo che è molto fedele alla realtà si io gli voglio bene è una delle pochissime armi che ha il manico che va indietro che per me in un pump ci sta e aspetta mi è crashato il sito non so perché oh 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 what the fuck mi avevo messo una roba strana aspetta aspetta tornaci e sci ok allora e mi piace anche quello scontone ambigui che c'è di sotto quindi 9 9 buono si 9 molto molto alto lo shot gun lo shot gun l'immagine non rende è più bello in game per me è più bello in game si anche per me però comunque lo odio talmente tanto che mi fa schifo anche vederlo 6 6 è brutto è rosso a caso non mi piace infatti è quello il problema io a immaginarmelo e a vedere perché qualcuno l'ha fatto ovviamente tutto grigio scuro al posto del rosso mi piaceva assai gli davo anche un otto e mezzo però così 7 perché il rosso non rovino l'end cannon attenzione l'end cannon l'end cannon dà l'idea di potenza infatti no scusa non è più potente da più di 10 metri di distanza fa 12 rip potenza 78 poi diventa 21 dopo pochissimo perché non ha senso sta cosa hanno reso le revolvere e l'end cannon completamente inutili avevano questa cosa allora sparano poco è difficile prendere quando prendi fai un bel danno però se invece non fai manco danno perdono completamente la loro utilità comunque di estetica gli do 9 perché è bella è tuzza io ho 8 ne hai già detto tutto tu perfetto pistolina normale schifo schifo 2 parto già così io prima di te 2 eh anch'io 2 perché devono fare una pistola fate da cioè questa pistola non è realmente esistente no appunto è un incrocio fra quelle moderne la parte sopra e quelle antiche e la parte sotto non ha senso è brutta è orribile 2 veramente orribile un po' più moderne potevano fare una eh la Glock 17 per esempio è abbastanza bella eh non so che aspetta la cerco scuola block 17 questa è classica ma ci sta tieni vediamo un po' sì ci sta ci sono di più belle e al manico un po' grande però è sempre meglio di quella almeno il colore è più scuro sì e il manico non con quello schifo vi prego sì veramente pezzo di legno a caso la revolver la revolver con quelle incisioni che ha sulla canna che qua non si vedono a me piace abbastanza con il legno sotto il legno sotto in questa ci sta è adatto perché questa è antica cioè si vede mi viene una pistola moderna che ha il sparal laser questa è dai vecchi tipi che cavalcano le mucche esatto questa ci sta otto e mezzo no io non così tanto io do sette perché non mi piace tanto ah suppresset pistol mi piace un casino lo so io la adoro la texture il silenziatore tozzissimo però ci sta il mirino la adoro questa è fatta veramente bene non so voi ma io la adoro voto 10 allora anche a me piace il trucco di classe è il mirino quello ci sta sì quello è veramente bello il colore mi sta simpatico però 8 e mezza non vi piace la SG chiamata anche mitraglietta dai poveri è brutta è brutta l'unica cosa cioè è realistica sì ma comunque adesso non c'è più in gioco quindi ok però non c'è più sì non c'è più c'è solo la mitraglietta tattica vabbè comunque è realistica perché il caricatore è veramente così delle mitragliette il davanti è una cosa inguardabile sì perché è un tubo pieno di buchi ho capito che c'è in certe armi ma c'è nei cecchini non nelle mitragliette che senso ha vabbè brutta i buchi potevano anche essere belli però non fatti così sì assolutamente non fatti così poi si allarga un casino il davanti quindi voto due io ho tre perché la preferisco alla alla pistola io no lo stesso di non la dobbiamo più vedere no smg smg vediamo non ha niente di speciale ma comunque non è brutta cioè è sottile è adatta ad essere un smg sì è l'arma più più inutile del gioco sì sette sì sette no sei la mitraglietta quella di adesso quella tattica molto più bella dell'altra assolutamente anzi questa già mi potrebbe anche piacere perché con quella roba intorno un po' più tozza ci sta il caricatore che non è il rapporto 5 a 1 con il manico ci sta questa ci sta il don 7 e mezzo allora a me piace che è molto più proporzionata molto più piccola però non diventa più bilanciata sì poi anche qua ci sono i buchi davanti però sono piccoli sono nascosti da qualcosa di color diverso che ci sta quindi 8 8 ma va bene il cecchino quello buono il cecchino quello buono è un cecchino classico bello fatto bene realistico assolutamente è esattamente uguale a un cecchino realmente esistente non mi ricordo come si chiama eh sì comunque gli darei 9 mi piace soprattutto da usare da usare è una goduria io parto già dicendo che anche io do 9 però con una mimetica grigia è bellissimo sì dovrebbero assolutamente mettere le skin per le armi è un po' peggio è un po' peggio però avete idea di quanto sarebbe figo le skin per le armi wow vabbè personalizzarle più che le skin già fatte che poi fanno delle schifezze vabbè se non fanno delle schifezze vanno bene anche quelle già fatte ma fanno delle schifezze hunting rifle hunting rifle hunting rifle è un fucile da caccia di quelli vecchi ci sta niente di troppo speciale c'è il legnume senza merino ovviamente è è bello cioè non è bello però ci sta sette e mezzo mi darei sette e mezzo allora prima di tutto non capisco come faccio a mirare così tanto dato che al mirino uguale a quelli degli shotgun anzi anzi le shotgun al mirino quello lì proprio olografico questo è un pezzo di legno questo di sopra vabbè anche questo fa la sua figura tu quanto gli hai dato? sette e mezzo io gli do otto il cecchino semiautomatico sinceramente non mi è piaciuto non mi è mai piaciuto la cosa che mi dà fastidio è il calcio perché deve essere c'è tutta l'arma spessa e poi il calcio è un pezzettino di ferro che spunta dietro fatelo integro come quello del cecchino normale cioè fatelo bello tozzo così non ha senso tutta l'arma tozzissima in legno ci sta in questo caso ma la parte dietro non proprio non non la sopporto assolutamente 6 6 e mezzo dai perché comunque ci sta abbastanza non capisco cos'è che non mi piace forse è che sembra molto più tozzo e corto e non lo so però quello è vero sembra tutto secondo te se guardate la forma del pezzo centrale io non so come si chiamano le robe delle armi e non ha una sua forma è tipo un non lo so sembra un burrito non è un granché non è un granché per me quindi 6 6 oh attenzione stiamo arrivando alle ultime due armi mi raccomando vi ricordo di iscrivervi lasciate un like perché questo format merita il lancia granate lancia granate lancia granate il suo colore ci sta è adatto è bello bilanciato anche quell'affare che ha davanti quel manico che non spunta semplicemente da sotto ma c'è tutta l'affare intorno alla canna mi piace e il rumore è bellissimo il rumore dei due lancia missile e lancia razzi cioè il lancia granate e lancia razzi sono bellissimi i rumori gg e comunque la lancia granate mi piace quindi gli darei un bel 8 e mezzo un bel equilibrato fatto anche realisticamente perché più o meno è così ok allora a me piace un casino quella saccoccia chiamasi caricatore chiamasi saccoccia non la chiamare caricatore che è un nome inventato saccoccia ok apport e gli do 9 anche per i colori che sono belli il lancia razzi lancia razzi non è che ci sia troppo da descrivere è un tubo cioè si è un tubo con dei cosi è un tubo con delle cose che spuntano però mi piace che spuntano anche sopra e non solo sotto lo rende molto più equilibrato e più bello e anche quel tondo che ha in fondo mi piace cioè è equilibrata come cosa se con il missile dentro senza il missile brutto in culo con il missile dentro ci sta 8 allora ok che quegli affari lo equilibrano però non so mi danno un po' fastidio la verità il fatto che siano uguali di dimensione non è non è bellissimo e ho da dire che il razzo con quella faccia è osceno a me piace quello per me è orribile un missile bello anche quei colori vanno bene però la faccia così mi dà face anche le dimensioni del razzo non ci stanno e anche il tondo dietro quindi 8 e mezzo l'unico problema è la faccia face signori abbiamo finito questo video bello se volete altri episodi così con magari i picconi le skin i balli cose del genere è pieno di roba è pieno di roba quindi mi raccomando supportate questa serie lasciate un bel like iscrivetevi se non è ancora fatto condividete perché dovete condividerli questi video belli con gli amici amici se avete un gruppo whatsapp spammatecelo potente scriveteci questo video è bello guardatelo anche se poi verrete discriminati per verrete gli amici perché consigliate canali poveri ma di qualità non importa non ce ne frega dovete condividerli punto quindi vi ho ricordato tutto quello che dovete fare mi raccomando fatelo e ci vediamo nel prossimo video bella